E senza precedenti l'attacco che il governo degli Stati Uniti lancia contro la Corte Penale Internazionale dell'AIA, che è minacciata di sanzioni se tenta di perseguire i militari americani su presunti reati commessi in Afghanistan. Lasceremo che la Corte Penale Internazionale muoia da sola. Del resto per noi questa Corte Internazionale non conta più nulla. Ha tonato il referente per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. L'alzata di scudi da parte americana viene dopo la notizia che la Corte dell'AIA intende indagare sui crimini di guerra in Afghanistan e la richiesta da parte palestinese di portare Israele davanti alla Corte Penale Internazionale per via delle violazioni dei diritti umani a Gaza e nella Cisgiordania occupata. In risposta a queste ultime accuse, Bolton ha detto che gli Stati Uniti stanno chiudendo la missione diplomatica palestinese a Washington. Va segnalato che gli Stati Uniti non hanno mai ratificato il trattato istitutivo della Corte dell'AIA.